Lavori ripresi da martedì scorso in Piazza Santa Vendrancia per la realizzazione della grande rotonda. Gli operai all'opera sono ancora pochi perché si attende per il prossimo 13 maggio, da parte del Tribunale, l'annullamento del fallimento della dita che sta eseguendo i lavori. Dopo quella data più squadre dovrebbero intervenire per portare avanti la costruzione della rotatoria. che dovrebbe essere finita quindi più velocemente. Certo, ci saranno dei rallentamenti dovuti al fatto che anche gli acquisti di materie prime, per esempio, dovranno passare tramite autorizzazione del Tribunale. L'importante è che i lavori siano ripresi e che il visaggio per la situazione sia destinato a finire il più presto possibile. Non sono giornali stasera. No, mi scusi, è più che si spedino a farlo. Non sono giornali stasera. Grazie a tutti